Mi corre l'obbligo di ringraziare la famiglia Boffardi in persone del suo amministratore che facendo la sponsorizzazione ha creduto in questo progetto della Nocerina che stiamo portando avanti con molto impegno e con molta dedizione. Quindi ringrazio ufficialmente e pubblicamente la famiglia Boffardi che ha fatto la prima sponsorizzazione e mi auguro che altre iniziative come quella di Boffardi seguiranno credendo nel nostro progetto.